Siamo ancora a zero tra visite e commenti. Dobbiamo starcene qui in eterno immobili invece di inseguire i nostri sogni. I ballerini di YouTube sono delle celebrità. Milioni di follower, sponsor, parlo di soldi veri. Il ballo su YouTube è un business enorme e io so come ci si muove. Lavoro con un investitore molto grosso. Se gli piace quello che farete qui oggi, sarete i miei primi clienti. È un lavoro a tempo pieno curare l'immagine che stiamo creando per te. Sono pronta. Mi spieghi che senso ha inseguire un sogno se poi è solo la tua immagine che lo vive? Tu gli devi dare quello che vogliono. Pensi che i tuoi fan, i tuoi follower ti ammino davvero? Quelli neanche ti conoscono. Devi essere te stessa, è questo che vogliono.